Memushai non al meglio, parte dalla panchina, fuori Rizzo e Drudi, causa squalifica, 3-4-3, sorrettino tre pali, Ianes, Ingrosso e Veroli nel trio difensivo, poi a centrocampo gli esterni di Zappella e Rasi, Rasi l'altra novità sostanziale, Pompetti e Diambo nel cuore del reparto nevralgico, anche Diambo che prende il posto di Memushai giocherà una buona partita al fianco di Pompetti davanti Clamezza e Dursi, a supporto di Ferrari Grosseto con 3-5-2, Fratini viene preferito a Verdoliac che almeno inizialmente parte dalla panchina, davanti il tandem Arras-Moscati, il primo tempo dominato dei Biancazzurri che concluderanno verso la porta toscana ben sei volte, un legno colpito anche da Eugenio Dursi, davvero molto sfortunato, queste le azioni salienti della partita, Diambo il pallone in mezzo, c'è questo contatto in area tra Fratini e Ferrari, Ferrari si lamenta l'indirizzo del direttore di gara Bonacina di Bergamo che lascia proseguire, rivediamo ancora, c'è questo contatto però non sembra niente di che tra Ferrari e Fratini, Fratini che ha giocato titolare, quindi c'è questo break della formazione di casa con il lancio di Raimo, bravo Sorrentino a capire il pericolo, e anticipare il tempo dell'uscita, anticipare soprattutto a precedere Arras, quindi Dursi, maglia numero 7, siamo al tredicesimo, palla in profondità per Clemenza che cestina una grandissima opportunità, non inquadra lo specchio della porta da posizione più che privilegiata. Altro lancio, Veroli per Dursi che brucia il numero 19, si niega, tiro però debole, riesce in qualche modo a sventare la minaccia il portiere del Grosseto Barrosi, classe 2000 e quadrata, la tifoseria della squadra toscana, stadio Zecchini naturalmente di Grosseto, quindi lo spunto di Rasi, il gol del Pescara, fa fuori Raimo, palla in mezzo, ci mette una pezza per così dire salvi, la palla resta lì, anticipa Dursi, ma c'è Ferrari, il suo tap-in 1-0, Pescara al trentesimo minuto nel corso del primo tempo, il settimo sigilo del campionato per il classe 95, aveva segnato con la maglia del Como un anno fa in Grosseto-Como, partita finita 3-4 per i Lombardi, rivediamo l'ottimo spunto di Rasi che lascia sul posto Raimo, palla in mezzo, c'è Salvi che anticipa Dursi, la palla resta lì, il tap-in vincente di Ferrari, 1-0, gioca in scioltezza il Pescara, ruba palla di Ambo a Fratini, poi palla in mezzo, meglio, palla in profondità di Ferrari per Dursi che prova a piazzare ed è sfortunato il palo interno, la palla dunque non entra perché è davvero molto sfortunato il giocatore del Pescara, guardate, interno destro, 9 volte su 10, il pallone termina in fondo al sacco, non è un periodo fortunato per l'ex attaccante di Bari e Catanzaro, il super gol di Clemenza, minuto 43, si ritaglia lo spazio per la conclusione, questa è una prodezza balistica, un gol da urlo, non segnava dalla trasferta di Gubbio quando mise a segno una doppietta, guardate, un gol fantastico, palla sotto la traversa, nulla da fare per il portiere Barosi, è il quarto gol in campionato per il classe 1997, 43esimo minuto dunque, Grosseto 0, Pescara 2, eccoli qui, i tifosi del Pescara, circa 60 tifosi biancazzurri che sono andati a sostenere la squadra del cuore, siamo nella ripresa con il tecnico Magrini che cambia sistema di gioco dal 3-5-2 al 4-3-1-2, subito uno spunto di Raimo, la chiusura di Ingrosso, poi sul versetto opposto 55esimo, fuori gioco, il gol, posizione di Ferrari che è riuscito a toccare il pallone, a superare il portiere Barosi, il portiere del Grosseto, rivediamo, qualche dubbio ci sarebbe però, insomma, l'arbitro ferma il gioco sul segno d'azione del Guardanini, è sempre 2-0 Pescara, col Grosseto che però si scuote con Moscati, una lunga storia tra Moscati e Sorrentino, ai tempi della partita di Coppa Italia, dallo scorso 15 settembre, Sorrentino si fa a trovare pronto, è davvero molto reattivo, l'estremo difensore biancazzurro classe 2002, da indicazioni della panchina Gaetano Auteri, ancora Moscati, l'ottimo intervento, l'ottima risposta dell'estremo difensore del Pescara, c'è Magrini che si rammarica all'altezza della sua panchina, Lamberto Magrini, 60 anni come Auteri, poi Zappella per il nuovo entrato, De Marchi, la volé, la palla che si ora di pochissimo attraversa la porta difesa da Barosi, dunque vicino al Tris, il Pescara, poi l'errore prima di ingrosso, soprattutto di Di Ambo, che si fa soffiare il pallone da Cretella, Cretella poi sterza, manda vuoto Di Ambo, il suo sinistro è chirurgico, nulla da fare per l'immobile Alessandro Sorrentino, dunque il Grosseto, riapre il match, 83esimo minuto, nel corso di questa partita, l'errore di Di Ambo poteva fare molto meglio anche in grosso, poi Di Ambo si fa superare, c'è la sterzata di Cretella, entrato in corso d'opera, il suo sinistro è chirurgico, immobile Alessandro Sorrentino, 1 a 2, si riapre il match, riprendono vitalità anche i tifosi del Grosseto, però insomma non succederà più nulla, siamo al minuto 94, 5 i minuti di recupero decretati dal direttore di gara Bonacina di Bergamo, il Pescara torna a sorridere, vince dopo un mese, vittoria esterna che arriva dopo tre mesi, l'ultima il 19 settembre contro il Montemarchi a Pontedera, ora serve continuità. Grazie a tutti! Grazie a tutti!